Ben ritrovati con questa terza parte del corso sulle banche dati dal titolo La tabella. La tabella è l'elemento fondamentale di una banca dati, di conseguenza questa lezione, questa parte del corso, sarà veramente tosta, ve lo dico già. La tabella è una delle più pesanti, se non la più pesante in assoluto, perché proprio qui vengono descritti dei concetti fondamentali senza i quali non si può proseguire nel nostro cammino per poi essere in grado di creare e gestire le nostre banche dati personali. Quindi addentriamoci subito in materia, sperando di uscirne vivi, si fa per dire, senza esagerare. Allora, una tabella è un oggetto di banca dati dedicato a contenere i dati, ok, è fin qua. E i dati cosa sono, in fin dei conti? Cos'è che vogliamo mettere in questa tabella? O più tabelle, naturalmente, perché la banca dati può essere composta da uno o più tabelle. Dunque i dati in sé sono quelli che ci permettono di descrivere un'entità, quindi un qualcosa, reale o astratta, che abbiamo deciso di archiviare nella nostra banca dati. Ecco, facciamo un esempio, giusto per non essere troppo sul filosofico, in una tabella possiamo archiviare dei dati, per esempio, che descrivono un'automobile, un pc, un francobollo, un gatto, un cane, un uccello, che ne so, una pecora, una legge, qualsiasi cosa, eh. E quindi l'insieme di più tabelle appunto si chiama banca dati e appunto ci permette di descrivere la realtà, cioè come il titolo principale di questo corso, ho detto appunto impariamo a descrivere ed archiviare la realtà, proprio perché non ci sono limiti nell'archiviare dati nelle nostre tabelle. Possiamo appunto, come ho detto qui, archiviare entità reali o astratte, quindi possono essere nostri idee, quindi entità astratte, così come cose concrete di tutti i giorni, come ho appena detto, automobili, francobolli, animali, quello che vogliamo, quello che abbiamo bisogno di archiviare. Quindi una tabella di banca dati, come qualsiasi tabella, quindi non è che una tabella in banca dati si chiama tabella a caso, ma è come una qualsiasi tabella, quella che noi possiamo anche disegnare su un foglio di carta con righe e colonne. Ecco, come esempio, come metafora classica di tabella, si può usare un foglio calc, come ho già aperto qua dietro, un foglio elettronico di calcolo, che sia poi Excel o Calc, in questo caso ovviamente Calc, di LibreOffice, è composto da colonne e da righe. E questa è la disposizione classica di una tabella. Ripeto, anche quella che noi possiamo, con una matita, disegnare su un foglio di carta. Quando noi vogliamo organizzare le nostre cose, i nostri pensieri in formato tabellare, ci viene naturale tirare qualche riga in verticale, qualche riga in orizzontale e ci siamo creati una tabella. Ecco, in banca dati non è diverso il discorso. Una banca dati è composta da tabelle, le quali a loro volta sono composte da righe e colonne, come vedremo fra un attimo. Esattamente come il foglio calc che vedete qua dietro. Io ve lo lascio qui sottofondo, come sfondo del video, in modo che sia sempre lì come riferimento didattico per capire che stiamo parlando di tabelle. Allora, come ho detto, una tabella quindi è composta da colonne e da righe. Le colonne sono gli attributi che compongono la struttura di una riga. Ok, allora, nel gergo delle banche dati le colonne vengono chiamate attributi, così come, vediamo qui in fondo a questo punto della mia scaletta, campi. Così, diciamo, nel gergo comune fra informatici, diciamo così, si parla comunemente di campi o di attributi, che sono poi le colonne che compongono una tabella e l'insieme delle colonne compone appunto la struttura di una riga della tabella. Ecco, sempre usando il nostro foglio calc a mo' di strumento didattico, vediamo per esempio, limitiamoci alle prime quattro colonne, ecco, diciamo che la nostra tabella, ipotetica tabella in banca dati, sarà composta da quattro colonne e l'insieme delle quattro colonne descrive le righe che saranno contenute nella tabella. La riga 1, 2, 3, 4 avranno i loro valori composti dalle quattro colonne. Vediamo un po', 13, 15, 70. Ecco, pensando dunque che stiamo creando una tabella composta da quattro colonne o quattro attributi o quattro campi, come vogliamo, come ci viene meglio, vediamo che l'insieme delle quattro colonne per ogni riga, quindi ho scritto dei valori per le prime due righe della nostra tabella, vedete che l'insieme delle quattro colonne descrive interamente una riga, un altro insieme di quattro colonne descrive la seconda riga, la terza, la quarta e così via. E quindi le righe sono interamente descritte dai quattro valori delle quattro colonne rispettivi per ogni riga. Vedete, qui abbiamo due righe diverse, una con 1, 2, 3, 4, una con 10, 13, 15, 70, sono due righe diverse composte ognuna dalle quattro colonne di questa tabella. Molto bene. Quindi attributi, campi o colonne che vogliate, e qui un attributo, quindi ogni singola colonna, come dico qui, è un'informazione singola, ed è la più piccola, la più atomica che può essere presente in banca dati, quindi un attributo è un'informazione singola che descrive un dettaglio dell'entità a strato reale che vogliamo archiviare e descrivere nella nostra tabella. Quindi una singola colonna descrive un singolo dettaglio dell'entità che vogliamo archiviare. L'insieme quindi di tutti gli attributi o campi o colonne, ripeto, descrive interamente l'entità, fino al dettaglio che abbiamo deciso di gestire. Ecco, qui probabilmente sono un po' difficile come frasi da collegare alla realtà, però avendo qui sott'occhio la nostra tabellina, dico che lì un attributo, quindi una colonna, ha un attributo, b un altro, c un altro, d un altro. L'insieme, un singolo attributo, descrive un dettaglio dell'entità che vogliamo archiviare in questa tabella, e l'insieme dei quattro attributi, descrive interamente l'entità, fino al dettaglio che abbiamo deciso di descrivere. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Se prendiamo una tabella che descrive l'entità, che descrive l'entità automobile, potremo avere gli attributi, ovvero le colonne, che descrivono, che contengono o descrivono la marca dell'automobile, la cilindrata, il colore, il tipo di carburante, il numero di porte, eccetera, eccetera. Ecco, a seconda delle esigenze si può andare più o meno in dettaglio, si potrebbe aggiungere anche il tipo di trazione, il tipo di copertoni, quanti posti può avere quest'automobile, il tipo di cambio, eccetera, eccetera. Quindi le colonne che descrivono questa entità automobile, nel nostro esempio, possono essere solo quattro, così come venti, a seconda del dettaglio che vogliamo raggiungere nella descrizione della nostra entità automobile. Quindi nel nostro esempio qui di dati, che abbiamo detto quattro colonne, che ne so, può essere la marca, il colore, il tipo di carburante, il numero di porte, noi ci fermiamo lì perché è sufficiente per noi descrivere il nostro automobile in questo modo. L'insieme delle quattro colonne ABCD descrive interamente una riga e quindi una delle automobili archiviate nella nostra tabella. Per la seconda riga avremo altri quattro attributi che descrivono un altro automobile e avanti così fin quando abbiamo automobili da descrivere nella nostra tabella. E voilà, gli attributi di una tabella vengono anche comunemente chiamati i campi, questo l'ho già detto all'inizio. Molto bene, quindi queste sono le colonne. Le righe, quindi parlando di colonne non abbiamo potuto fare a meno di parlare anche delle righe perché sono strettamente legate le cose. Quindi le righe rappresentano il contenuto della tabella, l'abbiamo già capito descrivendo le colonne. Ogni riga descrive interamente un esemplare dell'entità reale o stratta che vogliamo archiviare in quella specifica tabella. E quindi ogni riga appunto descrive interamente, vedete lo scrivo anche qui, quindi vi ripeto voi avete a disposizione questi testi, potete leggerli tranquillamente quando seguirete il corso o anche a posteriori dopo il corso avrete comunque sempre questi testi a disposizione. E vedete che appunto dico che una riga descrive interamente l'entità che vogliamo archiviare nella tabella grazie alle colonne che la compongono. Ecco, l'insieme delle righe è il contenuto completo di una tabella, quindi se siamo, che ne so, un rivenditore di automobili avremo 50 modelli e avremo 50 righe contenenti ognuno le caratteristiche dei modelli dell'automobile specifica, una per riga, un'automobile per riga. I 50 modelli sono descritti in questa tabella con questi quattro attributi. Ecco. Poi cosa dico ancora, dunque ogni riga appunto descrive una diversa automobili, più righe abbiamo archiviato in tabella più automobili abbiamo nella nostra banca dati, ovviamente, quindi si accumulano le righe, si accumulano gli esemplari di entità contenuti archiviati in quella tal tabella. Ecco, quindi niente di, come dire, niente di fantascientifico, una tabella è una tabella, anche in banca dati non è niente di diverso che una tabella come quella che possiamo semplicemente disegnarci su un foglio di carta e che ci viene automatico disegnare così e ragionare così in forma tabellare. Quindi in banca dati non si fa altro che replicare questo concetto di tabella perché è semplice, perché lo capiscono tutti e perché si può applicare ed è molto efficace per organizzare le informazioni. Allora, abbiamo parlato di righe e di colonne, fin qui tutto bene, adesso finalmente possiamo incominciare ad avvicinarci effettivamente al nostro file di banca dati che ci seguirà come strumento didattico per tutto il corso, che è la nostra banca dati interventi PC. Come ho detto nel primo video, il tema di questa banca dati è la descrizione dell'attività di qualcuno che dà supporto sui PC ai propri clienti, insomma, quando hanno dei problemi si fa un intervento e si vuole archiviare in banca dati questi interventi. Ecco perché la nostra banca dati si chiama Interventi PC. Allora, prima di aprire questa banca dati però dovete verificare un'opzione sulla sicurezza delle macro perché questa banca dati, che è già quella completa del corso, include delle macro che vedremo un bel po' più in là nel corso. Ecco, però il fatto di avere incluso delle macro nella banca dati implica anche che LibreOffice, come Microsoft Office, controlla l'esistenza delle macro e può impedire l'apertura del file per sicurezza. Ecco, allora, per evitare ciò, noi verifichiamo un'opzione della sicurezza e così potete aprire tranquillamente anche voi come me, se seguite come me passo a passo il corso potrete aprire il file e vedremo come fra un attimo. Quindi prima di fare doppio clic sulla nostra banca dati, abbiamo LibreOffice aperto con un qualsiasi foglio calco, come in questo caso, andiamo sotto strumenti, sotto opzioni opzioni, categoria LibreOffice, sicurezza vedete qui che c'è un paragrafo specifico sicurezza delle macro schiacciate il pulsante per aprire il dettaglio e se già non è così, se è diverso da questo livello di sicurezza, impostate medio quindi attivate il livello di sicurezza medio delle macro molto probabilmente l'avete molto alto o alto per difetto quando installate LibreOffice lo mette probabilmente ad alto se non è medio comunque forzatelo a medio poi fate ok, salvate e adesso potete aprire il nostro file di banca dati quindi facciamo doppio clic e vedete che il livello medio di sicurezza ci avverte che in questo file ci sono delle macro si schiaccia Abilita macro, tranquillamente non c'è pericolo sono le macro che abbiamo creato noi per il nostro corso quindi sono macro sicure e fate pure Abilita macro solo se ricevete un file di cui non conoscete bene la provenienza chi l'ha creato, che strada abbia fatto questo file per arrivare a voi è più sicuro premere Disabilita macro tanto per cominciare, così non c'è pericolo che si avvieni qualche macro che fa qualche disastro sul vostro pc però in questo è garantito, fate pure Abilita macro vedete lo faccio anch'io, non succede niente le macro vanno create esplicitamente quindi quando voi in futuro creerete le vostre banche dati naturalmente partite con un file nuovo come vi ho mostrato nel video precedente come fare se create un file nuovo naturalmente non c'è nessun avviso di macro perché questo file non contiene macro in questo file nel nostro del corso io ho creato esplicitamente delle macro che vedremo appunto un bel po' più in là nel corso ed è per quello che esce l'avviso quindi mettendo alla sicurezza livello medio LibreOffice ci permette di decidere di volta in volta se attivare o no le macro ed ecco che possiamo aprire il nostro file di database del nostro bel corso allora ci eravamo fermati ad iscrivere colonne e righe poi siamo arrivati al fatto che le colonne o attributi o campi che dir si voglia possono essere di diverso tipo naturalmente perché conterranno informazioni di diversa natura come possono esserci attributi numerici quindi contengono dei valori numerici che possono essere numeri, importi o di altro tipo delle informazioni testuali delle informazioni di tipo data di tipo ora e avanti così ci sono anche altri tipi di informazioni ecco dove lo vediamo questo lo vediamo per esempio in una delle tabelle ecco allora ho aperto la nostra banca dati di riferimento ho schiacciato qui sulla sinistra la categoria tabelle perché cominciamo appunto stiamo parlando di tabelle e vedete che naturalmente ci sono già incluse le tabelle della nostra banca dati della nostra banca dati di esercizio però volendo parlare adesso diciamo della teoria delle tabelle facciamo una creazione temporanea di una tabella nuova giusto per mostrarvi com'è come facciamo a creare una tabella nella nostra banca dati si viene qui nel riquadro in alto a sinistra e si fa click su crea tabella in vista struttura crea tabella in vista struttura perché è quella più libera c'è anche una procedura guidata per creare tabelle che ci propone già delle strutture preconfezionate con degli attributi delle colonne e di esempio tipo gli indirizzi così però trovo che siccome la realtà che noi vogliamo descrivere è sempre diversa da questi esempi non valga tanto la pena usare gli esempi ma è meglio partire da zero quindi noi creiamo la nostra tabella in vista struttura si fa click qui e si apre un'altra bella finestrella che appunto ci permette di descrivere i nostri campi ecco vedete che io parlavo di colonne attributi campi ci sono tre termini per descrivere la stessa cosa e specificatamente nella finestra che ci permette di creare una tabella vedete che si parla proprio di campo nome campo tipo campo descrizione del campo ok ho detto che gli attributi o campi voilà possono essere di diverso genere e vediamo che in tipo campo noi possiamo mettere un nome di un campo quindi diciamo campo uno qui sto solo simulando la creazione di una tabella e non la creerò perché le nostre tabelle di riferimento le abbiamo già andremo poi a vedere come sono strutturate ma vi ho mostrato la strada per crearvi una tabella nuova quindi vi mostro anche cosa succede quando si inizia a creare una tabella quindi il nome campo campo uno per modo di dire con tanta fantasia e qui da parte vedete che appena ho iniziato a scrivere il nome del campo si è attivata la tendina per il tipo di campo ecco vedete che di tipi di campo ce n'è piuttosto tanti scusate ce ne sono di numerici come ho detto qui nella mia scaletta vedete che c'è un intero che vuol dire il numero intero senza decimali intero piccolino intero lungo un tipo addirittura immagine per inserire in banca dati delle immagini vabbè campi binari non andiamo troppo nel dettaglio memo che è un tipo di testo lungo libero testo fisso dove dobbiamo dirgli qual è la lunghezza massima di questo campo testo numero generico decimale numeri con i decimali interi numeri interi teri piccoli numeri in virgola mobile un po' più per cose scientifiche numeri reali i numeri grandi con i decimali precisione doppia anche numeri un po' più grandi testo varchar che vuol dire caratteri variabili a differenza di questo testo fisso dove gli diciamo voglio questo testo lungo sempre 20 caratteri in questo caso gli possiamo dire 20 caratteri ma lui nella tabella memorizzerà solo la lunghezza effettiva del contenuto quindi se in quel campo di 20 caratteri io scrivo 5 caratteri occuperà spazio disco diciamo così nella tabella per 5 caratteri ma potrà essere espanso fino a 20 caratteri perché ho detto che il massimo può essere 20 tipo booleano ecco booleano vuol dire o sì o no solo un'informazione semplice o sì o no quindi acceso spento diciamo tipo data una data è intuitivo tipo ora o tipo data ora messo assieme o altro che non so a che cosa si riferisca altro campo generico probabilmente senza un un formato preciso predefinito ecco quelli più usati probabilmente così a occhio e croce potranno essere i numeri interi quindi se si dice intero lui dà una lunghezza fissa di 10 per difetto perché i numeri interi hanno queste lunghezze guardate che ingrandisco un po' la finestra qua i numeri decimali che hanno le posizioni decimali vedete che man mano che si sceglie nella tendina un tipo di formato qui sotto appaiono i dettagli di questo formato mettiamo che io un importo con i centesimi posso dire lunghezza 10 con due decimali eccetera eccetera posso anche dargli la formattazione esempio di formato posso dire fammi vedere così senza le migliaia oppure con le migliaia con i centesimi anche con l'importo negativo con il meno se c'è e posso impostare appunto il tipo di formato in cui si vedono questi campi di tipo numerico ecco l'intero ho già detto così come il testo Varchar quindi ha lunghezza variabile ma carattere che forse più economico nell'occupazione dello spazio che non il testo fisso se io metto testo fisso posso dire lui mette una lunghezza per difetto di 10 ma mettiamo che io voglio un testo di 100 e quindi questo occuperà sempre 100 e anche se in questo campo io scrivo solo 5 caratteri la lunghezza fissa di 100 vuol dire che in banca dati si riserva comunque sempre il posto per 100 caratteri mentre il variabile testo variabile se io dico 100 e appunto nel campo io inserisco 5 caratteri in realtà mi occupa spazio solo per 5 caratteri pur potendone contenere fino ad un massimo di 100 e così via ecco una caratteristica interessante è il testo Varchar Ignore Case per le ricerche in banca dati probabilmente è molto comodo usare questo molto probabilmente più comodo addirittura usare questo tipo di campo che non quello precedente perché cosa permette di fare questo campo di scrivere maiuscolo minuscolo indifferentemente in questo campo per i nostri 100 caratteri poniamo e poi durante le ricerche non dobbiamo preoccuparci di scrivere correttamente il maiuscolo minuscolo per ricercare il contenuto di questo campo ma Ignore Case vuol dire che possiamo scrivere tutto maiuscolo tutto minuscolo lui cercherà ignorando il maiuscolo e il minuscolo se invece facciamo semplicemente Varchar così testo che non ignora il maiuscolo e il minuscolo noi per cercare le informazioni in questo campo dovremo rispettare esattamente il maiuscolo e il minuscolo di come è stato inserito originariamente il testo in questo campo ecco e quindi mio consiglio per darci tutte le opzioni poi possibili dopo quando useremo la banca dati creiamo già il campo con attivato la possibilità Ignore Case che noi possiamo scrivere come vogliamo il contenuto ma il valore aggiunto e poi durante la ricerca quindi in sé questo campo e questo non hanno differenza se non con questa caratteristica che può essere molto comoda ecco e così via vedete qui ecco il boolean sì no la lunghezza è 1 qui si può inserire appunto è come un interruttore acceso spento l'informazione può essere solo sì o no prefissata poi naturalmente il campo data qui possiamo anche decidere il formato del campo data qui in basso può essere con l'anno a 4 posizioni a 2 addirittura la data estesa che ce la mostra così tutta per esteso ben descritta oppure un classico con i puntini o con le barre a dipendenza del paese ognuno ha le sue abitudini per rappresentare la data e si può impostare il formato colore è la stessa cosa ore, minuti, secondi vedete predefinito e ore, due punti minuti, due punti secondi sono campi particolari che includono questo tipo di informazione da essere coerente e naturalmente valida è una data non si può mettere il 30 febbraio perché in campo data la banca data ci pensa lei a verificare che sia coerente la data data ora è un insieme dei due campi precedenti quindi in un campo solo si può archiviare sia la data che l'ora vedete qui e poi basta ecco quindi direi che tra intero decimale testo varciari ignore case sì no data ora o data ora assieme sono i campi più frequentemente utilizzati per le banche dati poi ce ne sono ancora più specializzati se vogliamo ma sicuramente non saranno usati come questi che sono i più frequenti ecco intero piccolo limite che non è così è lungo solo 5 e non 10 come l'intero normale se abbiamo se sappiamo già che il nostro valore numerico non supera un certo tipo di numerazione non supera le migliaia ecco possiamo mettere anche un intero piccolo per occupare un po' meno spazio in banca dati non sprecare spazio inutilmente ecco quindi vedete che non è per niente difficile descrivere la struttura di una tabella queste sono le varie colonne qui possiamo dargli il formato prossimo campo basta fare clic nella seconda riga è un po' come una griglia excel se vogliamo rovesciata ecco dove l'excel abbiamo le colonne a b c in orizzontale qui le colonne le stiamo descrivendo se vogliamo in verticale quindi colonna 1 colonna 2 colonna 2 ecco diciamo testo varchar ignore case colonna 3 non so diciamo colonna 3 una data eccetera eccetera ecco questa è la struttura della nostra tabella ecco qui se vogliamo non è obbligatorio ma diciamo che obbligatorio è naturalmente dare il nome ad un campo e il tipo di campo possiamo anche descrivere cosa conterrà questo campo diciamo che se la banca dati è personale nostra la useremo solo noi solitamente è chiaro quello che stiamo facendo se invece questa banca dati deve essere anche condivisa con altre persone o consegnata ad altre persone forse è il caso di descrivere cosa contiene questo campo questo qui è testo libero possiamo mettere quello che vogliamo informazione campo uno eccetera eccetera questo qui è testo libero però è molto utile averlo qui sulla destra per ogni campo perché perché aiuta a capire cosa deve essere contenuto in quella tal colonna di questa tabella ecco una particolarità di questi campi di questi attributi o colonne della nostra tabella che stiamo creando una particolarità è l'obbligatorietà o meno di dover inserire questo ovvero nella realtà poi quando useremo la banca dati questo valore per esempio ecco questo qua ci sarà sempre sarà sempre disponibile quindi potremo sempre compilarlo oppure a volte ci mancherà e dovremmo lasciarlo vuoto ecco che per ogni campo come potete vedere qua sotto ci viene proposta una tendina dove ci viene chiesto la digitazione sarà necessaria oppure no allora se per difetto è no questo vuol dire che il campo quindi c2 nel nostro caso può anche essere lasciato vuoto ecco vuoto in banca dati significa proprio vuoto cioè un valore che si distingue da tutti gli altri valori come dire concreti ecco nel caso specifico c2 è un testo quindi noi possiamo scriverci dentro pinco pallino e questo è un valore che io chiamo concreto ma il campo vuoto in banca dati deve essere qualcosa che lo distingue completamente da un insieme di caratteri e quindi si chiama null in inglese quindi nullo vuol proprio dire nullo che non contiene niente quindi quando il campo è caratterizzato da digitazione necessaria no questo campo può essere lasciato vuoto nullo quindi valore nullo nel gergo e nell'ambito delle banche dati un campo che può essere lasciato vuoto quindi una colonna che può essere anche non valorizzata viene definita vuota al momento che gli si permette di contenere il valore null nullo che non è niente proprio nullo per definizione e vale per tutti i campi quindi anche questo campo data io ce l'avrò sempre questa data sì o no e se metto no può essere lasciata vuota quindi senza digitare nulla diventa automaticamente nullo ci pensa la banca dati a dire ok qui se non hai messo nulla tu ci metto il valore null io se invece metto sì ecco imposto per esempio scusate la colonna qui c3 della data a sì ecco che questa data mi verrà per forza richiesta non la posso tralasciare e non la potrò mai tralasciare ecco magari qui nella descrizione posso mettere attenzione valore obbligatorio ecco questa data quindi il momento che io popolerò questa tabella ovvero gli inserirò dei dati non la potrò mai lasciare vuota perché vi ho detto è obbligatorio ecco poi attenzione una caratteristica dei dati contenuti in una tabella è che sono organizzati in righe questo lo sappiamo già e attenzione però quello che non abbiamo sottolineato è che queste righe sono univoche ovvero in una tabella non possiamo avere due righe esattamente uguali non è tecnicamente possibile inserire in una tabella di banca dati due righe che abbiano tutti i campi tutte le colonne esattamente identiche come si fa a garantirsi questo introduciamo il concetto di chiave primaria ok una chiave primaria che cos'è è l'insieme di uno o più campi o di colonne quindi della stessa tabella che assumono il ruolo di chiave primaria ovvero di assumono il compito questo uno o più campi di garantire l'univocità delle righe all'interno di una tabella ovvero questo uno o più campi messi insieme saranno sempre diversi uno dall'altro riga dopo riga in questa tabella possiamo avere archiviato due righe come due milioni di righe sia le due righe che le due milioni di righe nelle combinazioni di questi campi che formano la chiave primaria non ci saranno mai delle combinazioni identiche ovvero se abbiamo due milioni di righe archiviate memorizzate in questa tabella ci saranno due milioni di combinazioni diverse per questa colonne che compongono la chiave primaria e ci pensa poi il motore della banca dati a dirci che deve essere univoca una riga quindi se noi proprio per provare vogliamo forzare una riga ed inserire una riga uguale ad una già esistente in banca dati ci uscirà un errore ci dice guarda che questa riga io ce l'ho già presente in banca dati allora come possiamo gestire in modo semplice una chiave primaria in una banca dati moderna con un attributo ovvero con una colonna automatica cosa vuol dire questo vuol dire che noi possiamo dare il compito ad uno dei campi della tabella di questi che noi stiamo scrivendo e che stiamo descrivendo scusate per comporre la riga la riga di questa tabella la struttura di questa tabella la struttura di colonne di campi di questa tabella uno di questi campi noi possiamo usarlo come campo diciamo tecnico di chiave primaria non necessariamente come campo di informazioni utili a descrivere la nostra entità che vogliamo descrivere in questa tabella se torniamo all'esempio dell'automobile magari qui stiamo descrivendo in queste colonne C2 C3 C4 C5 C6 eccetera eccetera le caratteristiche della nostra automobile ecco che per esempio il primo campo non avrà nulla a che fare con l'automobile ma avrà il compito unico ed esclusivo di garantire l'univocità di tutte le righe della tabella grazie al fatto che questo campo noi lo trasformiamo in un valore automatico in un attributo automatico e la banca dati ci penserà lei automaticamente a creare dei valori appunto essendo chiamato automatico ci penserà lei progressivamente a dare dei valori che saranno sempre diversi ogni volta che noi archiviamo una riga in questa tabella ecco la caratteristica di un campo per diventare un valore automatico deve essere un campo numerico quindi può essere uno intero intero piccolo lungo quello che volete voi diciamo che un intero per dimensioni di banche dati come dire casalinghe alla portata di noi comuni mortali un intero va benissimo con 10 posizioni ce ne stanno di valori aiosa ecco mettiamo che questo campo 1 diventi la nostra chiave primaria noi vedete qui sotto nei dettagli che appare una tendina nella quale ci viene chiesto questo sarà un valore automatico sì o no e noi diciamo di sì ecco a questo punto questo campo vedete che ho fatto clic nella riga successiva e a questo campo accanto all'estrema sinistra di questa riga è apparsa un simbolo di chiavetta lo vedete qui ecco che magari se lo ingrandisco è ancora meglio vedete che è apparsa una chiavetta cosa vuol dire è diventata automaticamente la chiave primaria nel gergo delle banche dati chiave primaria è quel campo ripeto o insieme di campi se vogliamo complicarci la vita ma noi useremo un singolo campo automatico per fare questo compito per svolgere questo compito ecco che appena diciamo questo campo è un valore automatico automaticamente la banca dati ci dice ok questo lo prendo lo assumo come chiave primaria e questo campo non ha nulla a che fare con la descrizione del resto delle colonne quindi delle entità che vogliamo archiviare in questa banca dati ma avrà l'unico scopo di importante non è un diminutivo dire unico scopo è uno scopo importantissimo di garantire dell'univocità di tutte le righe quindi io metterò i miei valori per descrivere per esempio la nostra automobile in questi altri campi e non ci occuperemo più del primo campo perché sarà la banca dati a valorizzarlo sempre incrementando il numero partendo da 0 mi sembra 0 1 2 3 4 man mano che noi aggiungiamo righe questo campo assumerà un valore sempre diverso e di conseguenza tutta la riga sarà univoca rispetto a tutte le altre già esistenti questo è il concetto di chiave primaria quindi garantire che ogni riga sia una combinazione unica fra tutte le righe archiviate nella singola tabella e appunto in questo compito invece di dover pensare noi a gestire l'univocità delle righe lo facciamo fare lo demandiamo alla banca dati più comodo di così quindi ci prendiamo uno dei campi o lo aggiungiamo apposta dopo aver descritto la nostra entità con le altre colonne quindi aggiungiamo un campo in più e lo facciamo diventare un campo tecnico diciamo così non effettivo di dati ma un campo tecnico che diventa chiave primaria quindi un attributo automatico e voilà ecco una nota anche come promemoria per il futuro l'esistenza di una chiave primaria come dico qui non ha solo il vantaggio di garantire l'univocità delle righe come abbiamo appena descritto adesso ma consentirà come vedremo poi fra un paio di parti del corso consente anche di avere dei vantaggi nella gestione di più tabelle legate fra loro ecco perché è una banca dati ben difficilmente composta da una singola tabella quindi una banca dati una tabella ben difficilmente di solito una banca dati la si intende come un insieme di diverse tabelle non so dalle due alle tre alle dieci alle cento tabelle che in un qualche modo hanno dei legami fra loro alcune di esse almeno non tutte legate con tutte ma solitamente alcune tabelle hanno delle cose in comune con altre tabelle ecco che come vedremo più in là adesso qui non andiamo ulteriormente in dettaglio perché il tema è la tabella e non ulteriori cose attorno alla tabella comunque il fatto di avere la chiave primaria e bisogna averla in ogni tabella faciliterà anzi sarà una condizione sine qua non per poter legare altre tabelle alla nostra tabella legare logicamente per comporre tutto un insieme lo vedremo nelle prossime parti del corso comunque andiamo avanti ok quindi questo è il principio cioè il modo per crearci la nostra tabella qui possiamo creare quante colonne vogliamo a dipendenza appunto del dettaglio in cui con cui vogliamo descrivere la nostra entità in questa tabella una volta terminato il lavoro la salviamo con il tasto qui salvo oppure ctrl s la salviamo ci domanderà ci verrà chiesto da LibreOffice come chiamare la tabella non cambio il nome in questo caso perché è solo così per didattica che vi ho mostrato come crearla e voilà è stata creata il dischettino è diventato grigio quindi è stata creata la tabella chiudiamo la finestra e vedete che tabella 1 è apparsa qua tabella 1 adesso è presente in banca dati come già vi ho detto nelle parti precedenti del corso abbiamo salvato la tabella ma non abbiamo salvato tutta la banca dati se vogliamo salvarla completamente dobbiamo schiacciare ancora una volta il dischettino a livello globale di tutto il file di LibreOffice base facciamolo pure ecco così abbiamo proprio fissato anche tabella 1 fra le nostre tabelle di banca dati ok come possiamo modificare la tabella così chiudiamo il cerchio proprio dell'editazione della creazione della gestione di una tabella prendiamo nuovamente la nostra tabella 1 vediamo qua in cima che c'è ci sono 4 pulsanti che permettono di aprire la tabella quindi per usarla e non per gestirla modifica che è quello che ci interessa e se schiaccio questo pulsante ci ritroviamo un attimo fa per modificare la struttura della tabella aggiungere o togliere colonne così come eliminarla quindi non la vogliamo più così come rinominarla quindi vogliamo cambiare il nome alla tabella le stesse opzioni appaiono con il tasto destro sulla tabella vedete elimina rinomina modifica o apri che sono gli stessi di quei pulsanti lì in cima ok nel nostro esempio di banca dati possiamo vedere che sono state create più tabelle ovviamente come ho detto ben difficilmente una banca dati composta da una sola singola tabella ma di solito da più vedete qui che io ho già creato diverse tabelle per descrivere la nostra attività di interventi sui pc noi abbiamo la nostra piccola ditta o ditta individuale noi diamo supporto alle persone sui loro pc e archiviamo la nostra attività in queste tabelle per convenzione o comodità o immediatezza essendo tabelle tutti i nomi li ho fatti cominciare con t sottolineato il nome della tabella così in mezzo a tutti gli oggetti che possono essere creati man mano come vedete qua identifichiamo subito che t è una tabella questo perché vedremo più in là che ci sono anche altri tipi di oggetti che hanno a che fare con le tabelle che non sono direttamente loro tabelle per distinguerli è più pratico avere darsi una linea di denominazione degli oggetti quindi ho deciso che per le tabelle ovvio diventa intuitivo t sottolineato è il nome vero della tabella cosa dico qua dico che sono state create più tabelle per poter archiviare ordinatamente le informazioni nella prossima lezione vedremo anche più specificatamente quindi nella prossima parte del corso più specificatamente perché non si accumula tutto in una tabella sola che sembra più immediato e più semplice andiamo a tra virgolette complicarci la vita su dividere le informazioni su più tabelle quindi lo vedremo nella prossima parte non approfondiamo adesso ma vediamo un dettaglio in questa lezione dove stiamo parlando di tabella vediamo ancora un dettaglio importantissimo e vedremo poi quanto sarà importante nelle lezioni successive ed è la chiave esterna o secondaria un attimo fa abbiamo parlato di chiave primaria quindi se entriamo di nuovo nella nostra tabella tasto destro modifica vediamo la chiavettina qui il famoso campo automatico questa è la chiave primaria ma esiste anche una chiave esterna o secondaria cosa vuol dire questo chiave esterna non ha lo scopo di garantire l'univocità delle righe quindi quello è già lo scopo della chiave primaria ovviamente la chiave esterna o secondaria deve averne un altro di scopo e in effetti ci permette di legare logicamente una tabella con l'altra ecco una tabella con l'altra è importantissimo perché dobbiamo fare questa cosa per garantirci un'informazione coerente archiviata nella nostra banca dati ecco prendiamo per esempio le tabelle della nostra banca dati che sono già qui create dove abbiamo dei legami per esempio fra la tabella che descrive il pc quindi la tabella di pc vediamola qua e tipo pc tabella con il catalogo dei tipi di pc ecco allora cominciamo dalla tabella tipo pc quindi apriamo la tabella tipo pc per vedere il suo contenuto ecco vedete che nella tabella tipo pc che ho già popolato con qualche valore c'è il tipo notebook il tablet il laptop il desktop il phablet il mac e altro ecco questo si intende con tipo pc cioè che tipologia di personal computer stiamo trattando rispettivamente c'è la tabella dei pc che descrive proprio il pc quindi le caratteristiche del pc e non il tipo del pc quindi se noi entriamo a vedere la struttura di questa tabella seguendo l'esempio vediamo che c'è una chiave esterna dov'è la chiave esterna eccola qua tipo pc adesso io aprirò anche in struttura il tipo pc così sarà più facile capire cosa sto dicendo perché come ho detto all'inizio di questa lezione mi rendo conto che è una delle più pesanti se non la più pesante lezione ed è anche difficile riuscire ad essere chiari perché per chi non ha mai creato banche dati mi rendo conto che una lezione di questo tipo è molto pesante difficile da capire tante cose assieme comunque io ci provo mi direte poi voi se ci sono riuscito o meno anche se non è così facile allora allora chiave esterna dunque qui ho la tabella che descrive i pc tipo nome modello quanta memoria ram ha quanti dischi ha se sono dischi è stato solido sì o no quanti pollici ha il video legato a questo pc che sistema operativo è caricato sul pc eccetera eccetera quindi è proprio un po' come l'esempio che facevo prima sull'automobile questa tabella non descrive l'automobile ma descrive le caratteristiche dei nostri pc sui quali andiamo a fare degli interventi ecco in fondo a questa alla descrizione delle colonne che descrivono i pc ho messo questa altra colonna id tipo pc che si chiama esattamente come la chiave principale della tabella che descrive il tipo di pc vedete chiave principale id tipo pc tipo numerico quindi intero ed è un valore automatico ed ecco perché c'è la chiavettina che è una chiave primaria che garantisce l'univocità delle righe in quella colonna così come id pc è un altro valore intero è un valore automatico e definisce e stabilisce quindi l'univocità garantisce l'univocità delle righe nella tabella pc ecco nella tabella pc ho inserito anche una colonna che è esattamente identica a quella nella tabella tipo pc ecco vedete che non è definita con nessuna iconcina particolare non è un valore automatico non è niente ma ha lo stesso formato intero della chiave primaria dell'altra tabella ecco questa assume il ruolo di chiave esterna o chiave secondaria perché questo perché qua dentro quando io descrivo un pc quando inserisco un pc nuovo nella mia banca dati in questo campo in questa colonna verrà inserito un valore presente in questa tabella quindi se sto descrivendo un pc che è un notebook in questa tabella torno a mostrarvi il contenuto di questa tabella vediamo se ce la faccio ecco quindi in questa colonna della tabella pc sarà inserito per esempio il valore 0 dell'id tipo pc id tipo pc è la chiave primaria della tabella tipo pc e lo 0 corrisponde a notebook se sto inserendo un notebook darò tutte le caratteristiche del notebook e in questo campo inserirò 0 che scopo ha quindi la chiave esterna e secondaria forse con questo esempio iniziate ad intuirlo perché ho detto la cosa più importante che ho detto in tutta questa descrizione è garantendo sempre un'informazione coerente perché perché se in questa colonna id tipo pc io potessi inserire il valore 15 vedete immediatamente qui sulla sinistra che il valore 15 non esiste quindi inserirei un valore di un tipo pc che non è previsto nella mia banca dati quindi sarebbe un'informazione incoerente per garantire la coerenza delle informazioni io nella mia colonna che funge che assume il ruolo di chiave esterno secondaria io potrò mettere e vedremo anche come lo si farà tecnicamente adesso non è importante in questo contesto perché ripeto stiamo descrivendo cos'è una tabella come la si crea le caratteristiche delle tabelle quindi prendiamo il concetto così descritto com'è poi vedremo come si implementerà tecnicamente quello che sto dicendo comunque ecco questa colonna che assume il ruolo di chiave esterna e secondaria potrà assumere solamente valori inclusi inclusi fra quelli archiviati nella tabella a cui si fa riferimento ecco vedete qui nella descrizione descrivo che in questa colonna ci deve finire il tipo di pc e metto tra parentesi per mia comodità per mia comprensione più facile in relazione con la tabella t tipo pc ecco che capisco subito che in questa colonna ci potrà finire solo un valore fra 0 e 6 e questo garantisce l'informazione coerente perché ripeto se io qui ci mettessi un valore 10 che non esiste fra 0 e 6 sarebbe incoerente avrei inserito un pc che ha un tipo di pc non descritto in banca dati quindi con un'informazione che non quadra e questo è facile da capire ed ecco che la chiave esterna secondaria si assume il compito diciamo così di garantire la coerenza di tutta la banca dati quindi nella mia tabella pc potrò mettere solo valori che sono archiviati nella tabella tipo pc perché ho deciso di inserire come chiave esterna nella tabella pc il tipo pc che è la chiave primaria della tabella tipo pc ecco se vogliamo fare un passo in più nella descrizione della chiave esterna possiamo dire che laddove una colonna ha il ruolo di chiave esterna in una tabella deve essere chiave primaria in un'altra tabella ecco forse questo rende magari più facile chiudere il cerchio fra chiave primaria e chiave esterna quindi ripeto laddove c'è una colonna in una tabella che assume il ruolo di chiave esterna come in questo caso nella tabella pc questa colonna ha sicuramente il ruolo di chiave primaria in un'altra tabella della banca dati nel nostro caso è proprio il caso della tabella tipo pc torniamo a vederne la struttura così chiudiamo il cerchio ecco qua che laddove abbiamo l'id tipo pc chiave esterna nella tabella pc ecco che ha il ruolo di chiave primaria nella tabella tipo pc ecco questo legame e questo legame poi garantisce quello che ho detto cioè che qui non possono finire archiviati dei valori non coerenti con il resto della banca dati e lo vedremo ben presto quindi ecco l'ultimo punto è appunto quello che ho anticipato due secondi fa e cioè che la chiave esterna appunto non è che da sola riesca a garantire la coerenza della banca dati la coerenza delle informazioni è quello che ho appena detto perché così come vedete adesso le cose qui potrei benissimo mettere il valore 50 che sappiamo non esistere in questa banca dati nessuno direbbe niente cioè la banca dati non reclama ci vuole quel qualcosa in più legato alla chiave esterna che si chiama vincolo e che discuteremo nelle prossime parti del corso e che quindi questo vincolo permetterà di chiudere il cerchio e capire tutto il gioco fra chiave primaria chiave secondaria e vincolo che farà in modo di rendere coerente la banca dati ecco la scaletta è terminata quindi anche questa pesante lezione io me ne rendo perfettamente conto di aver introdotto un'infinità di concetti nuovi probabilmente per chi non ha mai disegnato una banca dati per chi non ha mai pensato di usare una banca dati in questo modo mi rendo conto che questa lezione è tutt'altro che evidente facile probabilmente è stata difficile anche da seguire spero per quanto possibile nelle mie capacità di essere stato il più chiaro possibile però questa lezione eventualmente da rivedere guardare con calma perché è fondamentale da qui in avanti poi non voglio dire che è tutto in discesa ma se si è capito cos'è una tabella si è capito come è composta una tabella si è capito le componenti di una tabella che ruolo hanno e se si è capito perché deve esistere una chiave primaria perché deve esistere una chiave esterno secondaria e perché con i vincoli poi si garantisce la coerenza dell'informazione della banca dati perché poi l'importanza anche questa non è una banca dati non ha solo lo scopo di buttarci dentro dati per poi alleggerli in un qualche modo ma anche di averli coerenti questi dati perché poi se la banca dati quando la leggiamo ci ritorna dei dati sballati sbagliati o scombinati non serve assolutamente a nulla quindi dobbiamo anche garantirci che siano ordinati e sempre ordinati e coerenti questi dati in banca dati quindi in questa lunga e impegnativa lezione abbiamo visto come concretamente si crea una tabella da zero quindi si parte cliccando questa opzione poi si ottiene una tabella si può creare con campi che possiamo chiamare come vogliamo possiamo metterci la descrizione possiamo metterci diversi tipi di dati per singolo attributo un attributo solitamente il primo anche cioè non è obbligatorio che sia nella prima posizione può anche essere in decima posizione comunque solitamente sapendo a priori che dobbiamo riservare un attributo per fare la chiave primaria lo si scrive per il primo e così non ci si pensa più gli si dà il valore automatico deve essere un valore numerico e la banca dati ci pensa lei a fare tutto abbiamo visto come si fa no non salvo le modifiche abbiamo visto che è importante salvare sia l'oggetto che stiamo creando sia poi a livello di ho cliccato qualcosa che non dovevo sia a livello di tutta la banca dati con il dischetto qui o ctrl s salvare tutto il file per confermare tutto e voilà l'insieme delle tabelle che sono che ho già creato per questo corso lo vedremo meglio nelle prossime parti quindi questa lezione abbiamo parlato di una tabella di come crearla di come gestirla delle sue caratteristiche l'insieme di tutte queste sei o sette tabelle lo vedremo meglio nelle prossime lezioni sperando di comunque essere riuscito ad essere sufficientemente chiaro con la voce quasi azzerata vi saluto e vi attendo alla prossima lezione ciao ciao ciao